Ciao a tutti ragazzi sono Carmine e benvenuti a questo nuovissimo video di Brawl Stars Oggi ragazzi come vi avevo detto nello scorso video siamo nella settimana di Brawl Stars Dedicato ovviamente solo a Brawl Stars e oggi siamo ritornati in compagnia di Pioxgamer Ciao a tutti scommo, benvenuti in questo nuovo video di Angelo a Carmela Bruttezza Siamo andati un'altra volta in un video del suo canale, oggi abbiamo anche registrato un video sul mio canale Andatelo a vedere, questo video sarà anche questo una bomba Ragazzi perché questo video che stiamo registrando adesso ne è uscito un altro sul canale di Pioxgamer Andatelo a seguire e niente oggi siamo qua per giocare di nuovo le duo insieme a lui Ma non ti preoccupare Nel mio canale delle persone che conoscono sono iscritti solo Carmine e su Fraterno Per questo iscrivetevi anche voi al mio canale Vabbè ragazzi quindi prima di cominciare vi ricordo un mi piace, un commento se vi piace la settimana di Brawl Stars E noi cominciamo con il video, godetevelo Ok ragazzi per il video abbiamo scelto la combo epica Frank e Bibi Cominciamo subito Allora Piox E ragazzi ovviamente vi dico di scrivere Pioxgamer su Youtube scrivete con la P grande Pioxgamer con la P grande e poi tutto piccolo, sono morto già Cioè ragazzi sul canale di Pioxgamer con la P grande e poi tutto piccolo e siamo già morti Cioè ragazzi sul canale di Pioxgamer su Youtube siamo stati delle bombe e ovviamente sul mio canale facciamo schifo Vabbè niente rimetti pronto Aspetta c'è la mia buona, ho detto la mia buona Eh ma ti ho detto che me lo facevi prima recuperare Vabbè vabbè Dai ah Perché altrimenti Attenzione Però io mi sa Ho portato il mio sedere da molto Ho visto perché Perché dovevamo vincere Ah ragazzi comunque Andiamo al centro Aspetta Ragazzi comunque un annuncio che è uscito anche sul canale di Pioxgamer Che da oggi in poi io e lui siamo soci Siamo soci su Youtube E collaboreremo sempre insieme Perché comunque essere soci per me è una cosa molto bella Perché finora sono stato socio di Tommy Ma essere socio di comunque una persona che non ci vediamo sempre come Tommy è una cosa molto bella Adesso sono chiuso Sono chiuso Dannazione Mi stunno Mi stunno come si dice Mi paralizza Comunque ragazzi Mi accadono Ma anche mi chiedono Esattamente Altrimenti Non ci saremmo conosciuti Eh ragazzi Sto cercando di fuggire Perché da noi comunque siamo tre team Però Eh Questi qua Mi hanno chiuso Non so che Godo Che ha sbagliato la sua super Seconda musica Siccome non mi ricordo Praticamente ragazzi Ci siamo conosciuti in chiesa Che Aiuto Era Era Raga non ci possiamo fare niente Però vabbè Ragazzi comunque Secondi Eh Perché non ce l'ho segnato Perché non ce l'ho segnato Cosa Ma Non ce l'ho segnato Scontro finale Forse perché Siamo morti Eh Nel stesso tempo Un po' è morto Il terzo team Può essere Può essere Può essere Vabbè Piox Visto che sei qui Dicelo tu Ai miei spettatori Come ci siamo conosciuti A servire la messa Aiutano i sacerdote I sacerdoti E così No E così Noi ci siamo conosciuti Perché Noi chiedi che E così A caso Ho detto Uè Cosso Eh Perché non mi ricordo Il suo nome Per questo L'ho chiamato Cosa Da quel giorno Ci siamo conosciuti E ci siamo chiamati Cosso passando E siamo diventati I migliori amici Per la vita E mo Niente ci separa più E mo Ragazzi Visto che Ci siamo Che noi ci chiamiamo Cosi Il nostro canale Se facciamo un canale Insieme Lo sapete come Lo vorremmo chiamare Lullo di tamburi Ragazzi Il canale Se uscirà Si chiamerà Cosi forever Cosi forever Cosi forever Ecco Non ci Non ci Non ci Per esempio L'ho incontrato Perché Visto che Voste State Vanno Guardate Questo video Perché A me non piacciono Anche te Neanche a me Neanche a me Mi piacciono Ragazzi Avete visto Perché siamo Migliori amici Perché abbiamo Pure gli stessi gusti Neanche a me Piacciono Ragazzi Ovviamente Non si offendano Quelli che piacciono I miei controlli Perché ovviamente Ognuno Ha i suoi gusti A me non mi piacciono Poi c'è Poi c'è A chi piace E a chi non piace A me sinceramente Non piace Ne l'ho detto Però Ragazzi Mi raccomando Ognuno C'ha i suoi gusti No Uccidetelo Dai bombardino Col succhetto Col suo frullato Bel No Non è stunnato Neanche un cane Pure io Odiamo i miei contro te Tutti odiamo i miei contro te Sì Cosa Siamo arrivati quarti Non va bene Questa cosa Ragazzi Stiamo facendo Tanto schifo Sì Però Non mi vitterà Un secondo Un secondo Il problema Che l'abbiamo fatta Sì 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 Ma Tentiamo la vittoria Ma Basta Tentiamo la vittoria Cioè Tentiamo Non facciamo Perché Forse è bella Diremo Facci una vittoria Diciamo Ragazzi Se volete Così Se raggiungeremo Di 30 Iscritti Faremo anche Un terzo canale Che si chiamerà Laboratorio Dei cose Il laboratorio Delle cose Ah io No Allora Però Se cominciate a chiuderci Così Io Chiudo il video Io Chiudo il video E basta Perché non è possibile Che cominciamo così Scusate Ma che vi abbiamo fatto Ma prendetevelo Con quelli Posso mettermi solo qua Vabbè Posso mettermi solo qua? Dove pubblico Dove pubblico solo i video Dedicati a Brawl Stars Attenzione Attenzione Mi sono fatto vedere Però per fortuna Non si è proprio importato Di me Ha fatto Vabbè Una cosa Raggiungiamo I cinque iscritti I cinque iscritti I cinque iscritti Sono Uno video Porteremo Tanti alla consenza Va bene No Lui Cominciamo A Lui Un po' Stai I cinque iscritti Non c'è 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 Esatto Ragazzi Praticamente Abbiamo detto Sul canale Suo State a vedere I video Che Se raggiungiamo Nel suo video Di oggi Che ha fatto Con me I cinque Mi piace Praticamente Uscirà Un video Con me Di Di questo Gioco Dove si gioca Sempre online E giocheremo Insieme Posso Sare Un'altra Quindi mi raccomando Andate su Pioz Gamer Come vi ho dettato Prima Iscrivetevi al suo canale Cliccate la campanella Per non perdermi Le sue notifiche Mettete like Raggiungiamo i cinque Mi piace E arriverò Anche su quel gioco Siamo a nove minuti Ci possiamo fare Un'altra partita Quindi metti pronto E niente Ragazzi Siamo a fare Comunque ragazzi Scrivite Quando non cambiano Ragazzi Ovviamente Una cosa Dovevo dire Una cosa No Ti hanno ucciso Piox Potresti abbassare La voce Della 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 Partita No Perché altrimenti Non si sente troppo La voce del gioco E quindi Capito Non si sente bene La tua voce Boom Ma Non l'hai stunnato Penso che l'avevi stunnato Sono pure venendo Ad aiutarti Sì ma guarda Non per offendere Non per offendermi Per fantarmi E alcune voce Mi chiamano Proprio Non per offendermi E fantarti Ma a me che puoi fantarti Cioè comunque Se sei forte Tipo ragazzi Non so se conoscete Mommy Jordan Che è un giocatore D'Italia Su Brawl Stars Fortissimo Tipo il Secondo Ragazzi Non è che con 20.000 coppe Non si può vantare Cioè Fare 20.000 coppe Vabbè Cioè Mommy Jordan Ed Ed Vabbè Una cosa Se non mi spiego 20.000 coppe Non esistono Che detto Se non mi spiego 20.000 coppe Non esistono No il cammino Dei trofei Finisce a 15.000 A 14.500 Però tu puoi continuare Lo stesso A fare Puoi continuare Lo stesso A fare trofei Non è che poi Ti devi fermare Vabbè Poi c'è Actistico Poi c'è AK T Eh Eh Troppo tardi Vabbè Ragazzi Almeno siamo diventati Tre team Eh Ragazzi Niente Non ho potuto Fare niente Perché comunque Mi hanno chiuso Meno zero coppe Eh Niente ragazzi Io non credo Che posso continuare Troppo a lungo Il video Quindi Io spero Che vi sia piaciuto Questo video Vi ricordo Di Lasciare un comment Un mi piace A questo video Un commento Se vi piace La settimana Di Brossas E vi ricordo Di andarvi A iscrivere Al canale Di Piox Gamer Ve lo ripeto Di nuovo Nel caso Non l'aveste capito Pi grande Piox Con la X Staccato Gamer Con la G Grande E Lasciate like Al video Che abbiamo fatto Oggi E arrivando A 5 Mi piace Faremo Come si chiama Quel gioco In compagnia mia E niente Un saluto Da Piox Piox Saluta Ciao Tutto Soro E niente ragazzi Noi ci vediamo Con il prossimo video Bella ragazzi Ciao